Padre adorato, sono vittima di bregante. Se vorrete riabbracciarmi, padre mio, esse chiedono la somma di... 300 Ducati. Scrivete a mila. Fa 5 mila. 5 mila. Facciamo mille, non se ne parla più. Quella banda di bagasse. Si nascondono qui intorno, ma non sappiamo ancora dove. Voglio la testa di quelle donne. Sì, signore. Finalmente. Frettatela! Il nostro re si chiama Vittorio Emanuele II. A terra nostra! Avanti! Dov'è la bastarda? Dobbiamo scappare. Rimanere unite. Sempre. Come ve pare? A mia me pare una minchiata.